Siamo con Alberto Perucca, giovane promessa dello sport, portiere all'estero. Sì, sì, a Malta, ho firmato da poco per il Mosta, che mi dita nella Premier League, nella Serie A di Malta, e ho firmato da poco con loro, ho firmato fino a maggio e spero comunque che fino a maggio di totalizzare un po' di minuti, presenze, e cercare di metterci in un posto per l'Europa League. Una grande esperienza all'estero, che cosa porta a un giocatore giovane come te a provare subito un'esperienza all'estero, piuttosto che provare un'esperienza nelle giovanili, piuttosto che squadre delle categorie Lega Pro, così, in Italia? Sono esperienze che ti formano all'estero, perché comunque sei da solo, in un paese che comunque non conosci, e poi comunque la squadra, essendo comunque al massimo livello del campionato maltese, ha una preparazione tecnico-tattica molto differente, magari dalle squadre più giovanili in Italia. Però diciamo che cerchiamo di portare all'estero, a parte con la giovane età, la corsa e tutte queste cose qui, cerchiamo comunque di portare un po' appunto il metodo di calcio italiano in giro per il mondo. Il campionato a Malta, tanti nomi italiani, tanti nomi stranieri, com'è composto il campionato maltese? Il campionato maltese è composto da... Malta diciamo che punta tanto sugli stranieri, ma preserva anche molto i maltesi, nel senso che molte squadre hanno molti italiani, brasiliani, molti personaggi stranieri anche di importanza europea. Però la federazione maltese ha messo delle regole ben precise, nel senso come la regola dei cinque estracomunitari, cioè dei cinque esteri, in campo, non possono giocare più di cinque. Per cui diciamo che si preserva il giocatore maltese, ma si punta molto anche sul giocatore estero, appunto per cercare di alzare il livello calcistico maltese. E abbiamo... ci sono molti giocatori appunto importanti, parlo nella mia squadra, abbiamo Babaginda, ex Barcellona, Aglien Darbo, Dinamo Zagabria, insomma sono giocatori comunque di importanza europea e giocatori di personalità e carattere. Un campionato composto da 12 squadre, un'andata, un ritorno, un'altra andata, ma anche la possibilità di giocare poi nelle coppe europee. Sì, sì. La prima classificata del campionato partecipa ai preliminari di Champions League, mentre la seconda e la terza partecipano ai preliminari di Europa League e partecipa anche la vincitrice della Coppa Maltese. Quindi ti vedremo presto in televisione nelle coppe europee. Speriamo, speriamo in bene, dai. Ma il tuo sogno in realtà è giocare una coppa europea o magari giocare una squadra forte italiana tipo la Provercelli? Eh, sarebbe un bel sogno giocare la Provercelli, a parte che la squadra della mia città quindi sarebbe veramente una cosa bella. E diciamo che se capitasse di partecipare a delle coppe europee con qualche squadra estera diciamo che va benissimo. Però io diciamo che la Provercelli, essendo la squadra della mia città, mi piacerebbe un sacco comunque rappresentarla e tutto. C'è sarebbe un bel sogno. Questa esperienza europea è anche grazie a tutti gli allenatori che ti hanno seguito nel settore giovanile. Volevo, sì sì, appunto, volevo ringraziare due allenatori che diciamo mi hanno formato in questi ultimi anni. Uno è Luigi Romano, un allenatore dei portieri di Villanova, una persona fantastica che comunque in questi ultimi anni mi ha dato, mi ha veramente formato e mi è stato dietro in tutto quello che facevo. Mi è venuto a seguire le partite a Lugano, qua in Italia, dappertutto. E diciamo adesso lo ringrazio per comunque per il punto in cui sono arrivato ora. L'altro invece è Luca Simonetti, ha una palestra a Casale Monferrato Sporting Club e diciamo che con lui abbiamo fatto un lavoro in questo ultimo anno di preparazione comunque fisica, atletica e che comunque è servita molto all'estero. Quindi comunque ringrazio tutti e due questi allenatori perché comunque devo anche a loro il punto in cui sono arrivato ora. E auguriamo ad Alberto Perrucca una esaltante esperienza europea. Rimanete sintonizzati con noi, verceliweb.tv